Il ministro della salute spagnolo, Salvador Illa, annuncia una serie di nuove restrizioni per combattere l'ondata di casi di coronavirus. Accornamento di un incontro organizzato in fretta e furia con il leader delle regioni autonome della Spagna, decisa la chiusura di tutte le discoteche e i nightclub in tutto il paese. I nuovi casi giornalieri in Spagna, inserita tra i paesi ad alto rischio anche dalla Germania, eccezione fatta per le Canarie, sono costantemente in aumento da giugno, quando il paese, ha terminato un blocco di oltre tre mesi. I vacanzieri britannici in Francia intanto riflettono sull'opportunità di tornare a casa prima per evitare di finire in quarantena fiduciaria per 14 giorni, dopo la decisione del governo di Londra di reimporre le restrizioni in tal senso, causa recente aumento delle infezioni. Stizzita la risposta di Parigi, che minaccia ritorsioni. Quando cerco di prendere il traghetto, dice un turista a Calais, è tutto pieno e non so se ce la farò. Non sapevamo se avremmo potuto salire sul treno o sul traghetto, avremmo dovuto tentare a Dunkerque, ma hanno detto che non ce n'erano. Stavamo per percorrere l'Eurotunnel, ma non siamo riusciti nemmeno in quel caso. Questo è il meglio che abbiamo avuto. È un peccato, penso stiano succedendo cose peggiori in questo momento e siamo abbastanza fortunati ad andare in vacanza. Bisogna essere felici di ciò che si ha. Il capo del Servizio Sanitario Nazionale francese, Jérôme Salomon, afferma che Parigi e Marsiglia sono state dichiarate zone a rischio poiché le autorità osservano un forte aumento delle infezioni. Il ministro degli esteri olandese Bloch, intanto, invita i residenti del suo paese a recarsi nel Regno Unito solo se necessario.